Buongiorno, oggi noi parliamo di cibo e salute. Feste di scuola, poi parliamo di Natale in Australia. È una ragazza a Roma per uno scambio. Buongiorno, oggi il cibo è salute. Il cibo porta le persone e la famiglia insieme perché alla persona piace mangiare il cibo. Mi piace mangiare la frutta fresca, il mango e il tiramisu. Le persone mangiano al bar e in pizzerio. Gli studenti mangiano velocemente e lentamente. Cari telespettatori, oggi noi parliamo di Natale. Allora, come celebrano il Natale in Australia? Fa caldo in Australia durante il Natale. Fa molto caldo e le persone vogliono andare in spiaggia. Mangiano la torta, la frutta fresca e il tacchino. Celebrano con la loro famiglia e gli amici. Il Natale è divertente, bellissimo e molto emozionante. Mi raccomando, ricordatevi di prepararvi per il Capodono. Una studentessa arriva a scuola in Italia. Lei si chiama Leila, ma si è persa nel centro di Roma. Lei dice, aiutami per favore, ma Leila non capisce. Non ero mai stata in Italia. Lei ha trovato una mappa e corre a scuola, ma arriva in ritardo. Ha un punzione. Mi raccomando ricordatevi di essere puntali. Grazie. Grazie.